Al Renzo Barbera è iniziata la quarta era per il Palermo. Dopo Pergolizzi, Boscai e Filippi scocca l'ora del quarto tecnico dell'esperienza Mirri. 18 anni dopo, la prima panchina con Maurizio Zamparini e Silvio Baldini a ripresentarsi ai tifosi rosa-nero e lo fa con una grande carica, oltre che con grande amore per la città di Palermo. In conferenza stampa Baldini si dice pronto ad affrontare la nuova avventura, parla di mercato, di alcuni dei singoli nell'attuale organico, di impianti e di uno degli obiettivi principali, ovvero quello di riportare entusiasmo in seno alla squadra ed al club. Per ripartire al meglio bisogna coinvolgere, ha sottolineato il nuovo allenatore, i tifosi, la squadra e la città. Ecco le parole di Silvio Baldini nella conferenza stampa di presentazione del Renzo Barbera. Siccome, ti ripeto, e tu lo sai bene, che io sono innamorato di questa terra, ho sempre pensato di poter avere ancora una chance. E sinceramente, con il tempo che scorre, questa chance è sempre meno. E quindi, quando sono stato chiamato, ho pensato proprio a questo segno del destino, che ho questa possibilità. E quindi la scintilla si è accesa, si è accesa in maniera, come ti posso dire, in maniera molto luminosa. Perché dentro di me ho una grande voglia di mettermi a lavorare, una grande voglia di poter dimostrare. So che però Palermo è anche una città difficile, so che è una città che quando non ci sono risultati poi si va sulla graticola. Però questo è il mio mestiere, questo è il mio lavoro e se uno ha paura di questo, deve fare un'altra cosa.